Siamo in gruppo SEM in Tecnodomus Payer, presentiamo qui il nuovo modello Proficet 4-side planer. In particolare questa macchina è una macchina piccola della famiglia e è una macchina molto buona per il spazio, per l'ergonomi e per salvare il tempo per l'operatore. Il Proficet 40 è uno dei due modelli Proficet 40 e Proficet 60 che abbiamo e per tutti i carpentari. La macchina è equipata standard con la lubricazione manuale della tavola, con due aggiornamenti del planer e del fan in feed e può essere servito anche con un controllo. Quando abbiamo il controllo, automaticamente abbiamo la star di due due motori in operazione sequenziale. La macchina è equipata standard con l'exclusione del post roller sulla tavola, con un roller idolo sulla tavola e con una lubricazione centralizzata manuale. 4 suzione capi per l'extraczione. Possiamo servire la macchina anche con un controllo che può gestire il movimento verticale e orizzontale del planer. Nel range di Proficet automatico, possiamo trovare anche Proficet 60. La macchina è creata per profilo e anche per planer, equipata con 4, 5 o 6 axi. La macchina migliore per la migliore qualità e finito.